Nuove assunzioni e nuovi posti di lavoro da parte del TVO, la nota società di trasporti. Sentiamo i dettagli dal presidente Fabio Turchetto nel servizio di Giovanna Serena. Siamo col presidente della TVO, una proposta quella dell'azienda di assunzioni di nuovo personale in un tempo di crisi. Come è nata l'iniziativa? Allora, innanzitutto non è una proposta. Allora, è sinonimo di un'azienda che nonostante la crisi, nonostante i maggiori tagli ricevuti da parte dello Stato e quindi automaticamente riversati alla regione Veneto, nonostante l'aumento del gasolio che ci è costato circa 800 mila Euro in più in un anno, nonostante l'aumento delle assicurazioni, è un'azienda che comunque ha saputo e sa stare sul mercato e quindi è nella sua evoluzione normale. Le aziende devono assumere, in particolar modo aziende pubbliche come a TVO, che nonostante la premessa che ho fatto prima è assolutamente riuscita a stare nel mercato, con un bilancio in equilibrio anche quest'anno. Prova ne è che anche quest'anno noi faremo queste 30 assunzioni a tempo indeterminato e determinato che riguardano esclusivamente un parametro 140, quindi riguardano mansioni di guida dei mezzi, mansioni che riguardano anche la manutenzione dei mezzi per quanto riguarda la pulizia, eccetera. Quali sono i requisiti per poter accedere a questo concorso? Il requisito fondamentale è un'età dai 21 ai 35 anni, ecco su questa cosa devo dire è un tipo di requisito che io sto cercando di cambiare, questo non significa che io non voglia che i giovani entrino nel mondo del lavoro, anzi vorrei che tutti i giovani, visto che in Italia oggi abbiamo una percentuale di disoccupazione giovanile che è incredibile dal punto di vista negativo, io vorrei che i giovani, perché i giovani sono, e non lo dico per ritorica o per populismo, i giovani sono decisamente il futuro, non c'è alternativa e quindi un giovane che ha studiato, un giovane che si è preparato ha diritto, perché nella Costituzione il lavoro è un diritto, ha il diritto di lavorare, però mi pongo anche il problema delle persone di 50 anni, 45 anni che perdono il lavoro. Allora io credo che il giusto mix sia fare entrare i giovani, ma nello stesso tempo uno sguardo anche a queste persone che vanno aiutate, perché altrimenti il mondo del lavoro non le aiuta e non le fa più rientrare nel circuito virtuoso del mondo del lavoro. Per il momento questo non siamo ancora riusciti a farlo, mi sto attivando per vedere di modificare alcuni statuti che io ho, come si può dire, ereditato da un mondo però che era completamente diverso da quello che c'è oggi e spero anche che la Regione Veneto, anche in questo senso mi sto già attivando e cercherò di attivarmi sempre di più, la Regione Veneto si renda molto sensibile verso questa fascia di popolazione che è una fascia, appunto come dicevo prima, avendo alle spalle una famiglia e degli obblighi, è una fascia che comunque va tenuta in considerazione e va tutelata. Altro requisito per quanto riguarda il requisito scolastico, scuola dell'obbligo, quindi non c'è bisogno di un diploma di scuola secondaria e per quanto riguarda un altro requisito importante, questo ci tengo a dirlo, la patente pubblica è importantissima. Il voler dunque investire sia da un punto di vista tecnologico ma soprattutto sulla qualità anche del personale? Allora, uno dei segreti di ATVO è il suo personale, l'attaccamento che il personale ha verso l'azienda e le professionalità che ci sono qui dentro, poi per quanto riguarda l'innovazione ATVO è sempre stata e continuerà ad esserlo, stiamo accelerando molto in questo senso per quanto riguarda l'innovazione, noi vogliamo essere sempre, come dicevo prima, non rincorro mai, cerco sempre di anticipare e quindi siamo sempre assolutamente in prima linea per quanto riguarda l'innovazione, prova ne è che proprio in questo momento c'è una sperimentazione, voi siete i primi a saperlo, per l'abbattimento delle polveri sottili e del CO2 in collaborazione con l'Università di Bologna, della quale mi vanto di avere questa collaborazione e ne sono orgogliosissimo e in questi giorni stiamo predisponendo dei mezzi sulla base di una ricerca che in questo momento loro hanno fatto solo a livello, chiamiamola di studio interna all'Università, ma non l'hanno mai portata nel campo, noi con loro gli abbiamo dato l'opportunità finalmente di testare questa cosa nella realtà, tra le i calcoli che a livello interno all'Università, i test che hanno fatto loro, loro riescono ad abbattere un 90%, se questo 90% diventasse un 50% nella realtà sarebbe non un grande successo, un grandissimo successo, con un know-how tutto a TVO assieme all'Università di Bologna, credo che queste siano cose importanti.